Ciao, cosa si prova a passare dal bar con una speranza in pervalenza del campionato? Potrei farla io a voi questa domanda. Cosa si prova da fuori a essere del bar? No, chiaramente c'è grande soddisfazione perché ancora una volta questi ragazzi hanno dimostrato di non volerci stare, di ribellarsi a qualunque avversità che capita durante la gara, anche se queste avversità le abbiamo regalate noi perché eravamo in possesso di palla e abbiamo perso palla malamente, abbiamo spalancato la porta al contropiede avversario. Quindi dico sempre ai miei difensori o a chi si trova nella fase difensiva perché come ho specificato in più occasioni non è che i golli prende solo la difesa ma la prende tutta la squadra. Dico ai miei difensori quando siamo pressati e che siamo nella fase difensiva se non si può giocare, io voglio che giochino, ma se non si può giocare dobbiamo avere la forza di buttare via la palla, anche spazzare e pulire l'area, ma buttarla anche in tribuna se è necessario e poi ricompattarci e quando abbiamo la possibilità di giocare, giocare sempre. Cosa si prova? C'è una grande soddisfazione perché è la mia prima vittoria in casa e quindi mi fa enormemente piacere soprattutto per il pubblico, per questa gente che non ci abbandona mai, che ci dà sempre il suo calore, ci incoraggia sempre e quindi mi fa molto piacere questo. abbiamo sfiorato la vittoria in altre occasioni, avremmo potuto meritarla in altre occasioni, oggi siamo riusciti a ottenere la differenza, insomma fa parte un po' del nostro DNA, l'ho spiegato prima. Mentrella, Bari e tanti altri. Però oggi sono arrivati i due punti, cioè è inconciliabile, non ce ne toglie qualcuno che già ce ne abbiamo pochi, ma ce ne tre. È inconciliabile, cioè giocare bene e raccogliere la vostra vita per questa squadra, perché sono un po' di più strutturale. Ma guarda, io sono sempre dell'idea, l'ho detto in altre circostanze, che se si gioca bene e creiamo occasioni è più facile poter vincitire. Sempre a patto però di essere equilibrati e a volte questo equilibrio facciamo fatica a trovarlo perché per un motivo o per l'altro a volte concediamo delle ripartenze all'avversario, a volte siamo in fase di possesso di palla nostra, sbagliamo in uscita e questo quando tu sbagli che sei in possesso di palla, che i compagni si smarcano, concedere campo. Quindi dobbiamo migliorare. Noi cerchiamo di migliorare e non abbiamo raccolto. Oggi abbiamo raccolto, non possiamo stare a guardare tanto per il sottile, ma oggi potevamo vincere, a un certo punto avevamo dei giocatori in campo che avevano crampi, mi riferisco a Bagadour che era tanto tempo che non giocava, poi Franco pure accusava qualcosa, poi è uscito Ceccarelli, Colombo era tanto tempo che non giocava, gli entrava da un infortunio e così via. Gli ho detto di giocare con palla lunga e sulle seconde palle perché l'unica cosa che potevamo vincere è trovare un episodio, perché col gioco a quel punto non ce l'avremmo fatta, non solo non ce l'avremmo fatta, ma avremmo concesso all'avversario delle ripartenze che potevano farci male. Invece giocando qualche palla su coda, sponde con Donna Rumma, si poteva creare comunque della pericolosità e nello stesso tempo se perdevamo palla eravamo comunque in molti dietro la linea della palla. Fortunatamente abbiamo trovato l'episodio che ci ha permesso di vincere questa partita. Tutto è bene con lui, finisce bene, però con il libro oggi ce n'è stato poco. Sono d'accordo con lui, è vero, abbiamo cercato di giocare, di fare la partita perché poi una volta che ti trovi sotto dopo chiaramente diventa difficile, la gente per amore comincia a rumoreggiare. La gente come io, come noi tutti, come i miei giocatori, vai sotto, abbiamo rivisto i fantasmi, poi ce la fai a pareggiare con un bel gol, dopo rifanno gol l'avversario, a ricomincia. Oddio, non si vince nemmeno oggi. Questo scatta nella mente. Ecco perché dico che se questa squadra avessi avuto qualche vittoria in più sicuramente avrebbe potuto esprimersi il meglio. Ma c'è paura perché adesso le gare sono sempre di meno, il giocatore va in campo con grande tensione, giocare a Salerno la maglia pesa una tonnellata, pesa tantissimo e quindi dobbiamo avere la freddezza, dobbiamo avere i nervi saldi, nonostante quelle che possono essere difficoltà che si presentano durante la gara, dobbiamo avere la personalità di fattere far gira a palla e soprattutto, come dicevi tu, di non concedere ripartenze. E no, non è facile. Io l'avevo visto in settimana, mi sembrava abbastanza pimpante, invece poi ho incontrato delle difficoltà, ma abbiamo una rosa abbastanza competitiva, numerosa, ho messo un altro, ma questo lo dici tu, Zito ha dato il suo contributo, poi c'è stato, non dimentichiamo che ci sono stati l'infortunio di Moro, quindi ho dovuto cambiare, Moro ha preso una botta alla schiena, gli si è bloccata la schiena, Moro mi ha chiesto il cambio, Ceccarelli ha chiesto il cambio, dopo chi c'è stato. Lei ha fatto un solo cambio praticamente, Zito, vero economista. Esatto, esatto, bravo. La domanda che volevo fare, ha parlato di spetti, ha rivisto, sia in superiorità a Noelia, sia in vantaggio, ha rivisto gli spetti della gara con il tempo e della punizione che poi... chiaramente penso che tutto lo stadio ha avuto un brivido lunghissimo perché insomma avere quelle punizioni contro lì a pochi secondi dalla fine, in pieno recupero, poteva diventare la beffa, non l'ha capito. Andava anche dal quarto 1 per far notare che il tempo era scaduto? Sì perché eravamo già oltre il cinquantesimo, quindi secondo me avrebbe dovuto fischiare più. Poi ha fatto la gara per farsi allontanare, però Bonatti insomma... Bonatti vuole il record? No, ma Bonatti ha fatto niente, si è avvicinato solo perché io sono intervenuto nell'area tecnica, era un fallo laterale a mio favore, diciamo che sono entrato un po' io, ho protetto palla diciamo per non farlo prendere a quello del Latina e l'Apio è venuto lì a richiamarmi. Bonatti stava lì a ascoltare e ha detto no io sto qui solo a ascoltare e l'Apio l'ha mandato via ma non era assolutamente perché non si è rivolto a nessuna maniera riguardo. Quale situazione? Allora Trevis ha avuto un problema muscolare e quindi è una cosa da campo, fatevi gli affari vostri. Prego. No, sono cose che capitano che rimangano tra noi che le teniamo per noi ma tutto serve affinché insomma ci sia sempre... Ma certo che tornerengo, perché non deve tornare? Ciao... E' un po' di rispettare, un po' di rispettare, è il mio ulteriore di scuolo ministro, nel senso che ha sbagliato quasi il ragazzo, però mi è sembrato più capace di andare in mezzo al campo, di giocare tra il centro campo e di attacco e quindi fare un attimo di ricordo tra i due le parti, mentre gli altri due stiamo diciamo, riso un po' di più, Verissimo, un'analisi perfetta, io volevo che i due esterni stringessero un po' di più vicino ai mediani per andare a prendere questa seconda palla che si rispingevano i difensori e i avversari invece a volte erano allineati con i due attaccanti, così facendo rischiavamo un po'. Per quello che riguarda Codomini, se non c'è bocciatura per nessuno, il ragazzo ha corso, ha sbagliato molti passaggi forse si è nervosita, ma è un ragazzo giovane. L'ha pensato della giocata, quella di carità che si spettava il passaggio, non sbagliava poi? Sì, sono dei ragazzi che si affacciano in campionati professionistici e con queste tensioni ci può stare che a volte qualcuno sbagli qualcosa di troppo, però come sapete ho bisogno di tutti e quindi faccio le scelte in base a quello che penso e che vedo durante la settimana possa essere il meglio per noi. Ragazzi, questo è il grande problema che abbiamo. Abbiamo provato a cambiare più sistemi di gioco, per un motivo o per l'altro, oggi abbiamo regalato perché due volte eravamo noi in possesso di palla, abbiamo preso qualcosa di così. È un problema che ci sto lavorando, cambiando a volte anche il centrocampo, passando a un centrocampo a tre. Oggi però ci sono state anche delle defezioni, dei cambi forzati, quindi chiaramente abbiamo abbassato un po' il livello di corsa e di aggressività. L'altra domanda qual era? L'esperienza è importante. L'esperienza è importante per tutti, in tutte le cose della vita. Lei è sicuramente più bravo adesso di quando ha cominciato a fare giornalista, perché sicuramente c'è più esperienza, però poi nel calcio e nel campo bisogna correre. Va bene l'esperienza, ma dopo l'esperienza con corsa. l'esperienza è basta, diventa molto difficile, molto dura. Grazie. 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 Grazie a tutti. Noi, ma oggi non sono per tutti i giorni, non è, non è, non è, non è, non è, non è. Come fare la prossima? Lavorando, conosco solo un rimedio. Lavorare, cercare di migliorare, se sbagliamo dieci passaggi cerchiamo di sbagliarne otto, se complessivamente come squadra ne sbagliamo cento, cerchiamo di sbagliarne qualcuno o meno, governando meno la palla, meglio la palla, si può dare meno possibilità all'avversario di offendere e poi giocare più giocare più semplice nel collettivo si perché loro sono bravi sulle sponde si capiscono al volo su questo e poi l'ho detto l'ho detto anche prima a certo punto con Colombo che rientrava dopo tanto tempo con dei giochi del Bagadour come dicevo prima a certo punto potevamo cercare di vincere solo se trovavamo qualche episodio e due o tre episodi li abbiamo avuti e siamo riusciti a vincere questa partita perché giustamente come dici tu se fossimo voluti andare a livello di circolazione di palla non solo non sfondavamo ma come perdevamo palla eravamo in uscita prendevamo anche contro piede invece così comunque eravamo abbastanza raccolti e cercavamo l'episodio che puntualmente che meno male si è avverato grandissima partita d'accordissimo d'accordissimo migliore in campo vediamo 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 la stima c'è per tutti bisogna tutti quanti migliorare giocare un po' più semplice gestire meglio la palla gestendo meglio la palla come dicevo prima magari non facciamo gol ma sicuramente subiamo diamo meno possibilità all'avversario di offendere grazie a tutti